Ho scelto Milano perché l'ho scelta due volte. Milano è veloce, l'ho scelta la prima volta quando mi sono trasferita nel 2007 per amore e poi l'ho scelta di nuovo quando ho scelto di lavorare a Milano. Perfetta, scoprendo il sistema, il modo milanese di lavoro, che è quello di fare sistema, quello di creare gruppo, è quello di, con la scusa del lavoro, diventare amici. Milano è malinconica e scopre che Milano in realtà è una famiglia di mutuo soccorso che accoglie tutti e accoglie anche i romani milanesi come me. Ho scelto Milano.